Il Papa si fa pellegrino in Terra Santa sulle orme di Cristo Salvatore con sentimenti di fede, di grande emozione e di gioia. Con queste parole il Cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin sintetizza l'attesa per il secondo viaggio internazionale del Pontefice tra Man, Betlemme e Gerusalemme. Nell'intervista rilasciata al CTV il porporato al suo primo viaggio da capo della diplomazia della Santa Sede illustra quelli che spera siano i frutti del pellegrinaggio di Papa Francesco. Frutti diciamo che poi devono anche trasformarsi in testimonianza. Io direi che i frutti andrebbero soprattutto nella direzione dell'incontro, un frutto di incontro tra il Papa e le diverse realtà che vivono in quella terra e tra queste diverse realtà anche tra di loro. È un frutto di pace, sappiamo che il Papa si reca in una terra particolarmente travagliata. Io spero davvero che il frutto possa essere quello di aiutare tutti i responsabili e tutte le persone di buona volontà a prendere decisioni coraggiose sulla via della pace. Una terra dove fatica a fiorire la pace, quali sono i suggerimenti, gli auspici della Santa Sede nel dialogo israelo-palestinese? Da una parte il diritto di Israele di esistere e di godere di pace e di sicurezza dentro dei confini internazionalmente riconosciuti. Il diritto del popolo palestinese di avere una patria sovrana e indipendente, il diritto di spostarsi liberamente, il diritto di vivere in dignità e poi il riconoscimento del carattere sacro e universale della città di Gerusalemme e della sua eredità culturale e religiosa, ecco quindi come luogo di pellegrinaggio dei fedeli delle tre religioni monoteiste. All'Angelus dello scorso 5 gennaio Papa Francesco ha parlato di questo viaggio come di un pellegrinaggio insistendo sull'aspetto della preghiera, cuore pulsante sarà appunto l'incontro ecumenico al Santo Sepolcro con il Patriarca Bartolomeo I di Costantinopoli, il ricordo nello storico incontro tra Paolo VI e il Patriarca Atenagora. Crede che questo appuntamento possa in qualche modo segnare anche un momento significativo e importante nei rapporti tra le Chiese? L'ecumenismo è stata una delle acquisizioni del Concilio Vaticano II, ecco naturalmente al termine di un lungo cammino percorso anche dalla Chiesa Cattolica in questo senso, ma che l'incontro tra Paolo VI e Atenagora ha dato un impulso direi fondamentale, determinante a questo cammino ecumenico, a dirci a volte che i gesti magari servono di più delle parole, quali sono più eloquenti delle parole. Io mi auguro ecco che l'incontro tra Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo riavvivi un po' questa fiamma, questa fiamma, questo entusiasmo per il cammino ecumenico, ecco che dovrebbe animare un po' tutte le iniziative che pur ci sono, ma dovrebbe esserci quest'anima di entusiasmo e questa passione per l'unità che è stata la preghiera, l'ardente preghiera di Gesù nel Cenacolo prima della sua passione morte. Il motto del viaggio sarà Autunum Sint, in concreto quanto ci separa da quella piena unità, da quella coerenza di testimonianza tanto auspicata dal Pontefice. L'unità come sappiamo è soprattutto un dono del Signore che dobbiamo impetrare con la preghiera. Quello che io credo è richiesto a noi per accorciare le distanze e per accorciare i tempi è proprio una conversione continua al Signore e all'amore fraterno. Il viaggio sarà anche un momento di vera gioia per i cristiani che vivono in Giordania, Palestina e Israele, cristiani che spesso vivono in condizioni difficili. Sarà un momento di gioia e di conforto per tutti i cristiani che vivono in Terra Santa. E il Papa, credo, vuole sottolineare, ecco, nell'incontro diretto con loro due cose, che questi cristiani sono pietre vive e che senza la loro presenza la Terra Santa e gli stessi luoghi santi rischiano di trasformarsi in musei, ecco, come diciamo spesso, no? In musei. Ecco, invece la loro presenza assicura che lì ci sia una comunità cristiana viva e una presenza viva del Signore risorto. Vogliono mettersi sinceramente a disposizione dei loro concittadini per costruire insieme una patria libera, giusta e democratica.